Si tratta dell'azienda Bitec in appalto con committenza ITT. La motivazione dello sciopero è semplice. Richiediamo l'applicazione di un contratto dignitoso, CISD, CGL e Will, anche perché il contratto attualmente utilizzato è stato disdettato e quindi illegale. Quanti sono i lavoratori? I lavoratori sono 24. L'adesione allo sciopero è stata del 100%. E di cosa si occupano? Si occupano di incatolare la merce che arriva dalla ITT alla Bitec, al capannone Bitec, con un lavoro stressante e molto molto faticoso. Da stipendi parliamo? Parliamo di stipendi con una paga netta di 4,50 euro. Sui tre turni non si arriva i 1000 euro al mese. Finora l'azienda cosa vi ha detto? L'azienda Bitec sostiene che non ha la forza economica per cambiare il contratto, ha la volontà mai applicata finora di aiutare dal punto di vista economico i lavoratori, ma ad oggi ancora non vediamo niente.